Mi state convincendo? Io volevo anche chiederti, io sono un appassionato di marketing, tra l'altro tra poco apro la mia agenzia pubblicitaria, sono molto contento di questa cosa perché amo scrivere pubblicità, amo scrivere campagne, soprattutto per altri, mi diverto un sacco e sono assolutamente fan di quello che fai con il riso scotti. No che ho fatto, adesso l'ho fatto per vent'anni, siamo diventati una case history, si chiama case history. No è geniale, è geniale nel senso che per chi non lo sapesse il riso non è, molti credono che il riso sia tuo, ma in realtà già aveva questo nome giusto? Sì è un'azienda storica della fine dell'ottocento che poi è stata portata davanti generazioni e generazioni dei padri e poi a un certo punto ad una convention alimentare che presentavo io sul Lago Maggiore ho conosciuto, mi hanno detto guarda che c'è il dottor Scotty e io ho detto ma io devo confessare una cosa a questo dottor Scotty. Quando andavo in discoteca nel Pavese da ragazzino e sapevano che mi chiamavo Scotty e allora le ragazzine quando mi venivano vicino mi dicevano ma tu sei Scotty, sei figlio di quello del riso? E io gliel'ho dovuto confessare a distanza di anni per cuccare, dicevo modestamente sì. No, no Gerni no! Tanto adesso quelle lì ci avranno la mia età, se saranno diventate mamme, nonne e fa niente, insomma con un piccolo inganno mi facevo bello dicendo che ero figlio di un industriale del riso. Lui è stato molto spiritoso perché si è alzato dal fondo della sala e ha detto Ah, ecco perché io non cuccavo niente, perché le cuccavi tutte tu. Allora ti dico ciò che ci ha fatto diventare una case history. Tutte e due nati nel 1956, e non è facile. Tutte e due della provincia di Pavia, lui di una zona e io dell'altra, ma tutte e due pavesi. Tutte e due con il cognome Scotty. Quindi quando io sono diventato testimonial del suo prodotto, e lo sono stato per circa un ventennio, abbiamo fatto una creatura unica, in americano, in inglese, negli studiosi della pubblicità, si chiama case history. Ti cito un'altra case history. L'uomo che stava seduto al tavolino in mezzo a Viale Monza a Milano era Ernesto Calindri, che era un grandissimo attore di teatro, forse uno dei più grandi che abbiamo avuto, ma che per tutto il pubblico era diventato il signor Cinar, quello che stava seduto in mezzo al traffico e per combattere il logorio della vita moderna beveva il Cinar. Io l'ho fatto talmente bene questa personificazione del dottor Scotty che a un certo punto la gente ha cominciato a credere che fosse mia. L'industria era sua, rimane sua. Poi per una scelta industriale ed economica, un po' di anni fa, sei o sette anni fa, lui ha ceduto parte delle quote ad un gruppo industriale spagnolo, un grande gruppo spagnolo. Gli spagnoli, avendoci messo dei soldi, volevano comandare loro, non ci siamo più messi d'accordo, però siamo sempre portatori sani e fieri di questa bella storia pubblicitaria e di questa strana comunanza di nome e di origine e come diceva Califano, non escludo il ritorno, non escludo il ritorno. Potrebbe essere un grandissimo comeback del riso Scotty. Beh, beh, sono rimasto amico con il titolare, per cui ci sta, ci sta anche. No, comunque, guarda, quando ho saputo questa cosa sono impazzito perché è davvero un mix anche di, insomma, anche sentendo quello che hai detto, un mix di casualità che però ha creato un precedente di marketing geniale, cioè assolutamente geniale. Vuoi sapere i progetti a cui ho lavorato da copywriter? Vai, vai, voglio sapere tutto. Sono stato uno dei papà, e lì tu sicuramente avrai goduto come altri, del cornetto Cuore di Panna. Non è vero? Sì, sì, sì. Ero nel gruppo di lavoro che ha trovato il nome a questo prodotto, Cuore di Panna. Ero nel gruppo creativo della Martini quando facevamo cantare China Martini alla signora Ornella Vanoni. Cioè, ho dei ricordi bellissimi che mi hanno portato a conoscere dei personaggi nel mondo della pubblicità, incredibili. Ma il mio più grande orgoglio è di essere colui che ha tradotto in italiano il testo della canzone pubblicitaria più cantata al mondo. Sei pronto? Vai. Sicuramente la sai anche tu. Sei pronto? Vai. Non è che l'ho fatta io. Io ho fatto l'adattamento italiano del testo. Ok. Il mondo ti sorriderà. Non è vero? Il pazzo è in armonia. Auguri. Tanto si sa che è la Coca-Cola. Vabbè, poi per la Coca-Cola ho trovato anche il nome della tazza da passeggio. Sai che adesso tutti la chiamano Walkie Cup, ma fino a che io con il mio gruppo...